Francesco Bruni, siamo qui in Oakland, pronti per correre, ma per un momento, non c'è l'acqua di vento. Potremmo in condizioni azura? Potremmo. Tutti stanno dicendo che siamo molto bene in l'acqua di vento. Credo che siamo molto bene in tutte le condizioni. Credo che l'Aklanda ci darà un'acqua di vento a qualche stagione. Potremmo non questa mattina, ma è sempre stato un paese con abbastanza di vento e di acce. È solo una coincidenza che il primo giorno, il primo giorno è l'acqua. Azzurra è una squadra che è interiore italiana. Hai parlato italiano su board? Sì, siamo molto orgogliosi di essere un team nazionale. E avere tutti gli italiani su board, parlare il nostro lingua, è qualcosa che siamo molto orgogliosi di. E proviamo a mantenere in questo modo in futuro. Hai dato la foto del guatemata bay a vostro frate, Ganga, che deve andare sul masto? Qui è diverso? Non è mai stato un'acqua di vento in Auklanda. Credo che bisogna fare un po' di più di più di un'acqua di persone che hanno avuto qui. Ma è un buon avvito. L'acqua è stato un buon avvito in Auklanda. L'acqua è stato un grande aiutato nel masto. Le colti sono state eccellente. E spero che ci sarà un buon lavoro qui in Auklanda. Azzurra è qui dopo un buon allenamento in Valencia con la condizione l'acqua di vento. Puoi parlare con noi del vostro allenamento? Sì, eravamo in Valencia contro il Mascalzone. È stata una buona settimana. È stato molto caldo. Ovviamente, abbiamo avuto un'acqua di vento, un'acqua di vento. E abbiamo perduto un paio di giorni. Ma è stata una buona settimana. E credo che abbiamo fatto bene sull'acqua prima di venire qui. Grazie mille e ci vediamo al luogo. Grazie.